Adam e Eve sono i primi figli di Adam e Deva, siamo loro figli, e sono dalla nazione di Ibrahimo, la nazione di Abramo, e dal tempo del profeta Mohammed tutti apparteniamo alla nazione del profeta Mohammed. E oggi diciamo che apparteniamo alla nazione di Mohammed. Vengo da Adam e Eva, che significa tutti quanti gli esseri umani sono miei fratelli e sorelle, tutti. E Ibrahimo, è il padre delle tre religioni monoteistiche, Ebrahismo, Cristianismo ed Islam. E apparteniamo alla nazione del profeta Mohammed, alla gente di Mohammed. Questa è la nostra identità. Questo è quello che puoi imparare. Questo è quello che puoi imparare. È qualcosa che appartiene all'esteriore ancora. Poi quando chiedi questa domanda, ti poni questa domanda, quando troverai la tua vera identità, ossia la tua realtà. Quando troverai il tuo vero essere, quando troverai il tuo vero essere, lì troverai la tua identità. E che vuol dire che ti incammini in un cammino, in un viaggio, per trovare te stesso. Per trovare te stesso. Vuoi trovare te stesso. E il profeta Sallallahu Sallam ha detto e una cosa famosa che ha detto è che il profeta Sallallahu Sallam ha detto